Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, eccomi qua con un nuovissimo video, scusate se in questi giorni e anche altri giorni non ho registrato perchè comunque ho una lunga pausa perchè comunque come dire addio ho avuto da fare perchè ogni giorno dovevo fare i compiti o dovevo scendere perchè mamma perchè mamma perchè mamma alcuni giorni andava da fare un servizio e quindi e poi non ho avuto anche tempo perchè comunque ero impegnata anche con compiti un sacco di compiti e quindi non ho potuto registrare però oggi ho la giornata libera e quindi posso registrare allora oggi vi volevo far vedere cosa mi hanno regalato per natale allora prima di iniziare vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, lasciare like e cliccare la campanellina per avere le notifiche dei miei video allora iniziamo dal regalo di mia nonna mia nonna mi ha regalato questo qua che praticamente è un set va bene scusate mi aspettate ci sta anche il mio cane sta dormendo però d'accordo allora è un set di tinta labbra e matita però la matita mia zia la voleva provare però quando l'ha messa poi si è rotta quindi sto cercando di farla di meno la matita questa mia nonna questa mia nonna insieme insieme all'organizer di queste cose non fate caso le cose dentro però mi ha regalato l'organizer poi mia mamma e mio padre mi hanno regalato il calendario della Yves mi hanno regalato il calendario della Yves Rocher questo qua e dentro ho trovato tutta sta roba ho trovato tutta sta roba roba per la skincare e il makeup allora di makeup ho trovato solo tre cose questo è il mascara un rossetto rosso una matita poi poi ci stavano anche due profumi buonissimo devo dire un buonissimo olivo poi mi sono usciti anche due smalti che già ho messo poi mi sono usciti questa acqua brillantinata per il corpo poi un bagno doccia non lo so come poi mi è uscito anche lo shampoo solo che di là in bagno perchè è sempre così perchè l'ho usato ieri per farmi lo shampoo e poi questi due che non so cosa sia non lo so ancora infatti sono pieni perchè non ho ancora capito cosa sia poi questa acqua micellare poi questo qua che è un lip balm buonissimo buonissimo poi queste due cremine che cosa qua è un correttore per i brufoli infatti infatti è verde e poi è una crema per le mani non stop un carboncino 48 ore non stop bellissima già l'ho provata e mamma mia stupendo poi un passetto questo qua ho la maschera ho una maschera alla menta buonissima poi questo qua ho due scrub uno per il corpo uno per il corpo e uno per le labbra perchè cosa scrive le labbra e uno per le labbra poi questo qua che è una crema che si mette dopo la doccia una crema idratante che si mette dopo la doccia sul corpo poi qua mi è uscito questo che anche questo non so cosa sia infatti non ho neanche mai usato poi qua ho messo creme questa è una crema per il corpo una crema per le mani no questa è una crema per il viso una crema per il corpo e l'altro anche questa è una crema per le mani questo mi hanno regalato i miei idratatori poi mia zia con mia cugina e mio zio e un altro mio cugino e mio cugino mi hanno regalato questo leggings della Puma non si vede che è della Puma però è della Puma e poi mia zia mi ha regalato insieme a una cugina piccola mio zio questo che è praticamente lo specchio ecco qua lo specchio che si accende anche bellissimo le direi che i ragazzi quest'anno mi sono piaciuti un sacco un sacco stupendi e spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo con un nuovissimo video ciao ciao